La Regione Lazio è molto lieta di partecipare a questo evento in qualità anche di sostenitore. Ma perché è così contenta la Regione Lazio? Perché è un'importante occasione. Il mercato internazionale dell'audiovisivo mette la Regione Lazio al centro delle proprie opportunità, mette al centro quindi non soltanto i produttori ma anche le location del Lazio, che sono strategiche sia per la storia del Lazio ma soprattutto per la storia che la città eterna ma anche tutte le altre province propongono al grande mercato dell'audiovisivo. E quindi è un momento strategico incontrare quindi le professionalità con i luoghi della Regione Lazio, con le nuove professionalità ma soprattutto con il mercato. La Regione Lazio crede molto nel MIA perché ritiene che sia un'opportunità di confronto strategico e pratico. Al MIA si svolgono degli incontri strategici per i nostri produttori. Qui si trovano, possono trovare le coproduzioni internazionali. La Regione Lazio ha veramente come sfida il mondo, non soltanto il territorio. L'impatto con la sostenibilità per il mercato dell'audiovisivo ritengo che sia una delle opportunità strategiche e quindi si va oltre ovviamente l'impatto immediato ma è proprio una cultura che deve nascere, una cultura consapevole della sostenibilità verso quindi un mondo che sta cambiando e quindi questo cambiamento si può vedere appunto in una nuova strategia verso la sostenibilità.